Una Peugeot 3008 per causa in corso d'accertamento nel pomeriggio di ieri è finita in un canalone di scolo in località Poggio Verde capovolgendosi su un lato all'interno una sola persona uscita indenne l'incidente si è verificato in via Federico Fellini la tempestiva chiamata ai soccorsi da parte dell'automobilista ha attivato l'intervento dei pompieri che con l'ausilio di un'autogru hanno provveduto al recupero del veicolo sul posto anche la polizia di stato intervenuta per svolgere i rilievi necessari e coordinare la gestione della viabilità nella zona interessata non emergono dettagli ancora sulle cause dell'uscita di strada ma ulteriori indagini saranno condotte per stabilire quanto accaduto